legge professionale forense alla radio legge 31 dicembre 2012 numero 247 nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense in gazzetta ufficiale numero 15 del 18 gennaio 2013 entrata in vigore del provvedimento 2 febbraio 2013 titolo quarto accesso alla professione forense capo primo tirocinio professionale articolo 40 accordi tra università e ordini forensi comma primo i consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le università per la disciplina dei rapporti reciproci comma 2 il cnf e la conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono anche mediante la stipulazione di apposita convenzione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi per il perseguimento dei fini di cui al presente capo articolo 41 contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio comma primo il tirocinio professionale consiste nell'addestramento a contenuto teorico e pratico del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche comma 2 presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale comma 3 per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dall'articolo 17 comma 4 il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse comma 5 il tirocinio è svolto in forma continuativa per 18 mesi la sua interruzione per oltre sei mesi senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale comporta la cancellazione dal registro dei praticanti salva la facoltà di chiederne nuovamente l'iscrizione nel registro che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge comma 6 il tirocinio può essere svolto letrà presso un avvocato con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni lettera b presso l'avvocatura dello stato presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di 12 mesi lettera c per non più di sei mesi in altro paese dell'unione europea presso professionisti legali con titolo equivalente a quello di avvocato abilitati all'esercizio della professione lettera d per non più di sei mesi in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40 comma 7 in ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'avvocatura dello stato comma 8 il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine nel caso si possa presumere che la mola di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa comma 9 fermo restando quanto previsto dal comma 6 il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 numero 398 e successive modificazioni è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno comma 10 l'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per le finalità di cui al comma primo e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio comma 11 il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale negli studi legali privati al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'avvocatura dello stato decorso il primo semestre possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato una indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio commisurate all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato gli enti pubblici e l'avvocatura dello stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente comma 12 nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998 numero 51 rientravano nella competenza del pretore l'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro essa può durare al massimo cinque anni salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro comma 13 il ministro della giustizia con proprio decreto adotta sentito il cnf il regolamento che disciplina lettera a le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine lettera b le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio tenuto conto di situazioni riferibili all'età alla salute alla maternità e paternità del praticante avvocato e le relative procedure di accertamento lettera c i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio in altro paese dell'unione europea comma 14 il praticante per giustificato motivo può trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo dove intenda proseguire il tirocinio il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento valutati i motivi che lo giustificano e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto articolo 42 norme disciplinari per i praticanti i praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine articolo 43 corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato comma primo il tirocinio oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto per un periodo non inferiore a 18 mesi di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge comma 2 il ministero della giustizia ha sentito il cnf disciplina con regolamento le tra le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma primo da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee in maniera da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale lettera b i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi in quanto essenziali l'insegnamento del linguaggio giuridico la redazione degli atti giudiziari la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca lettera c la durata minima dei corsi di formazione prevedendo un carico didattico non inferiore a 160 ore per l'intero periodo lettera d le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie finale del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati magistrati e docenti universitari in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi indennità oggettoni di presenza articolo 44 frequenza di uffici giudiziari comma primo l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal ministro della giustizia sentiti il consiglio superiore della magistratura e il cnf articolo 45 certificato di compiuto tirocinio comma primo il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato comma 2 in caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato rilascia il certificato di compiuso tirocinio comma 3 il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di stato nella sede di corte d'appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine avente sedi in distretti diversi la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio capo 2 esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato articolo 46 esame di stato comma primo l'esame di stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale comma 2 le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal ministro della giustizia e danno per oggetto lettera a la redazione di un parere motivato da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile lettera b la redazione di un parere motivato da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale lettera c la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale di diritto processuale su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto privato il diritto penale e il diritto amministrativo comma 3 nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie ordinamento e deontologia forensi diritto civile diritto penale diritto processuale civile diritto processuale penale nonché di altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti diritto costituzionale diritto amministrativo diritto del lavoro diritto commerciale diritto comunitario ed internazionale privato diritto tributario diritto ecclesiastico ordinamento giudiziario e penitenziario comma 4 per la valutazione di ciascuna prova scritta ogni componente di commissione d'esame dispone di 10 punti di merito alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito nelle tre prove scritte un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova comma 5 la commissione annota le osservazioni positive o negativi nei vari punti di ciascun elaborato le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti il ministro della giustizia determina mediante sorteggio gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi delle corte d'appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti la prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta comma 6 il ministro della giustizia sentito il cnf disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri lettera a chiarezza logicità e rigore metodologico dell'esposizione lettera b dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici lettera c dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati lettera d dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà lettera e dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione comma 7 le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora fissata dal ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami a tal fine i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova l'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino allora fissata dal ministro della giustizia comma 8 i candidati non possono portare con sé testi o scritti anche informatici né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione pena la immediata esclusione dall'esame con provvedimento del presidente della commissione sentiti almeno due commissari comma 9 qualora siano fatti pervenire nell'aula ove si svolgono le prove d'esame scritti o da punti di qualunque genere con qualsiasi mezzo il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame ai sensi del comma 8 comma 10 chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati prima o durante la prova d'esame testi relativi al tema proposto è punito salvo che il fatto costituisca più grave reato con la pena della reclusione fino a tre anni per i fatti indicati nel presente comma nel comma 9 i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti per i provvedimenti di sua competenza comma 11 per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie d'esame comma 12 sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a 30 punti per ciascuna materia comma 13 agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili e a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica resta ferma la corrisponzione all'erario della tassa di cui è l'articolo 1 primo comma lettera b del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 13 settembre 1946 numero 261 come rideterminata dall'articolo 2 comma 1 lettera b del decreto del presidente del consiglio dei ministri 21 dicembre 1990 pubblicato nella gazzetta ufficiale numero 303 del 31 dicembre 1990 comma 13 bis le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di euro 50 da corrispondere al momento della presentazione della domanda comma 13 ter le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13 bis sono stabilite con decreto avente natura non regolamentare dal ministro della giustizia di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze analogamente il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati articolo 47 commissione di esame comma primo la commissione d'esame nominata con decreto dal ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal cnf tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori uno dei quali la presiede un effettivo e un supplente di regola prioritariamente magistrati in pensione e solo in seconda istanza magistrati in servizio un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche comma 2 con il medesimo decreto presso ogni sede di corte d'appello è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma primo comma 3 presso ogni corte d'appello ove il numero di candidati lo richieda possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a 300 candidati comma 4 esercitano le funzioni di segretario una o più funzionari distaccati del ministero della giustizia comma 5 non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del cnf comma 6 gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine di un consiglio distrettuale di disciplina del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del cnf nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto comma 7 l'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge comma 8 il ministro della giustizia anche su richiesta del cnf può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti comma 9 dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo la commissione rilascia il certificato per iscrizione nell'albo degli avvocati il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi articolo 48 disciplina transitoria per la pratica professionale comma primo fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di in vigore della presente legge fatta salva la riduzione a 18 mesi del periodo di tirocinio comma 2 all'articolo 1 comma 1 del regolamento di cui al decreto del ministro della giustizia 11 dicembre 2001 numero 475 le parole alle professioni di avvocato e sono sostituite dalle seguenti alla professione di articolo 49 disciplina transitoria per l'esame comma primo per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali sia per quanto riguarda le modalità di esame secondo le norme previgenti libertà e diritto per diffondere giustizia è con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di you slow web radio pulsano di amore per la nostra professione questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati tutte le novità normative gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui you slow web radio il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia